Qui vi presentiamo le 5 migliori altalene. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Smobi altalene ed ondoli altalena plus 18 mesi. Grazie alla sua utile seduta a cambio rapido, questa oscillazione può essere adattata alle varie fasi di crescita del bambino. Ha una struttura in acciaio con montanti di grandi dimensioni, che gli conferisce sicurezza e tenacità. La mancanza di saldature impedisce che si rompa. Ha una dimensione di 168 x 164 x 180 cm e pesa 10 kg. È adatto a partire da uno anno giù. Passando al numero 4. Garlando altalena singola can di multicolore. Solido e resistente. Ha una struttura tubolare zincata di o barrata 45 mm. Con supporto superiore in tubolare o barrata 50,8 mm. Verniciato con polvere di poliestere blu e viti in acciaio inossidabile. L'intera struttura è liscia per garantire una sicurezza ottimale. È dotato di sedile in plastica 42 x 15 cm. Corde regolabili e ganci di sicurezza e sicurezza. Un sedile di sicurezza opzionale può essere adatto ai bambini. Ha una dimensione di 162 x 166 x 200 cm ed è adatto a bambini dai 3 ai 10 anni. Capacità ottimale 50 kg. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Famosa 800.010.535. Feverei di swing altalena. Dedicato poco protagonista di mille avventure interessanti. Questo swing è apprezzato per il suo layout con interesse per le informazioni. Si approva per ragazze da 1 a 4 anni ed è anche realizzato con una solida struttura di supporto. Viene fornito in totale con cinture di sicurezza e lati antiscivolo che possono essere regolati in due posizioni, in base all'età. Ha colori brillanti e anche resistente al sole. Determina 35 x 141 x 18 cm. Considera 9 kg e ha anche una capacità ottimale di 20 kg. Almostat è top of our list at number 2. Kiko 30300. Super swing altalena. Estremamente facile da configurare, è inoltre sicuro e non richiede l'ancoraggio a terra. Di conseguenza può essere posizionato sia all'interno che all'esterno. Adatto ai bambini da 1 a 3 anni, ha un totale di posti di sicurezza con cinture e anche barra antiscivolo. Le sue misure ammontano a 142 x 150 x 144 cm. E quando viene chiuso può essere mantenuto in un piccolo spazio. I lotti massimi consigliati dal produttore sono di 9 kg. E infine il numero 1 della nostra lista. New Plasta 1343, altalena doppia in legno iris. È un doppio oscillazione dimensioni 270 x 190 x 190 cm, con una struttura in legno trattato con autoclave. Il diametro dei montanti è di 80 mm, quello della barra portante è di 100 mm. I giunti di assemblaggio con marchio sono costruiti in metallo, mentre i due sedili sono realizzati in robusta plastica. Il set è costituito da fissa per proteggere l'altalena a terra e salvaguardarla. Si tratta di un punto che rispetta le norme europee di sicurezza EN 7112389. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale. Iscriviti al nostro canale.